Silvia Toffanini incinta di Pier Silvio Berlusconi? Conclusa la stagione televisiva con Verissimo, Silvia Toffanini si sta godendo il meritato riposo dopo il grande successo. . L'edizione 2017-2018 del rotocalco di punta della rete Ammiraglia del Biscione del sabato pomeriggio è stata davvero da record, come affermato anche dal direttore di rete Giancarlo Scheri, in termini di ascolti e sciare, sbaragliando la concorrenza. . La conduttrice, con il compagno Pier Silvio Berlusconi, e i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, si sta godendo le vacanze nel bue in retiro di Paraggi, in Liguria. . Il settimanale Diva e Donna ha fotografato la Toffanini in costume che sfoggia un pancino al quanto sospetto. Silvia Toffanini è incinta del terzo figlio. A questo punto manca soltanto la conferma della diretta interessata e magari con il terzo erede in arrivo le cose con Pier Silvio Berlusconi potrebbero cambiare e convolare finalmente a nozze. . Il figlio dell'ex presidente del Consiglio italiano e l'affascinante conduttrice sono fidanzati da anni, e non hanno ancora fatto il grande passo, probabilmente non è ancora arrivata la tanto sospirata proposta di nozze. . Secondo indiscrezioni degli ultimi mesi, alla base della mancata promessa ci sarebbero i troppi impegni dell'amministratore delegato di Mediaset e un'allergia al matrimonio. . Silvia Toffanini mostra un pancino sospetto. È incinta. Silvia Toffanini si sta godendo le vacanze con la sua famiglia in Liguria. . Il settimanale Diva e Donna ha lanciato un'indiscrezione sulla bravissima conduttrice di Canale 5. . La compagna del figlio del Cavaliere Berlusconi potrebbe essere in dolce attesa del terzo figlio. . Dalle foto pubblicate dalla rivista, infatti, si può notare un pancino sospetto. Sempre molto riservata sulla sua vita privata e familiare, Silvia Toffanini è mamma di Lorenzo Macchia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, arrivata solo dopo cinque anni. . Quello che si sa è che la presentatrice di Verissimo è una mamma apprensiva, dolce e molto presente, nonostante i tanti impegni di lavoro. . Nonostante la proposta di matrimonio mai arrivata, Pier Silvio Berlusconi viene descritto dagli amici di famiglia come un padre, e un compagno impeccabile e affettuoso. . Prima o poi, Silvia Toffanini e Berlusconi Junior riusciranno ad annunciare la data del loro matrimonio. A proposito di Verissimo, alla fine di settembre la Toffanini tornerà al timone dello storico rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5. . Non ama molto parlare di numeri e share ma nella scorsa stagione ha fatto registrare risultati d'ascolto davvero impressionanti, anche nel mondo sociale e del web. . . . .